Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qua si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog, l'arte dello scrivere forse, che potete trovare su Tumblr. Troverete il link qui sotto nell'info box come anche tutti i link ai miei profili social dove potrete comunque vedere tutti i link ai post che ho dedicato ai libri in tutti questi anni. Il mio blog in particolare è ricchissimo di informazioni su tantissimi libri, quindi se state cercando qualcosa da leggere, lì potreste trovare quello che state cercando. Oggi ci dedichiamo alla fantascienza, di nuovo. Vi invito a vedere i miei video anche dedicati a Dune, al ciclo della fondazione e al ciclo di Perion, ma oggi ci dedicheremo a un altro ciclo fantascientifico, il ciclo di Star Trek. E qui starete pensando, ma Star Trek è un telefilm? Sì, Star Trek nasce come telefilm, ma in realtà in tutti questi anni, da quando esiste appunto l'idea di Star Trek, quando è stata creata l'idea di Star Trek, sono stati anche scritti molti, 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 molti romanti che ampliano tantissimo l'universo di Star Trek e approfondiscono i personaggi già presenti nella serie televisiva di Star Trek in tutte le sue varie declinazioni. Quindi abbiamo i romanzi ambientati durante Star Trek The Next Generation, i romanzi ambientati nella serie classica di Star Trek, i romanzi Deep Space Nine, i romanzi con protagonisti, i protagonisti della serie Voyager, i protagonisti della serie Star Trek Picard, che è l'ultima serie del franchise, e anche persino Star Trek Discovery purtroppo. Quindi veramente tantissimi romanzi, io oggi non vi farò un escursus completo di tutti i romanzi dedicati al mondo di Star Trek perché sarebbe veramente troppo ampio, non ho abbastanza tempo per farlo, però nel post che io linkerò qui sotto nell'info box troverete degli ulteriori approfondimenti e degli altri link se volete approfondire comunque la conoscenza di questi romanzi. Io mi limiterò a parlarvi di quelli disponibili in italiano, di quelli un pochino più accessibili di quelli più famosi. Allora, cominciamo subito col dire, se non conoscete Star Trek, dove siete vissuti fino adesso, non lo so, comunque poniamo il dubbio che ci sia qualcuno che non conosca Star Trek. Star Trek è una serie televisiva fantascientifica che parla principalmente dei viaggi spaziali dell'astronave Enterprise, che fa parte della Federazione dei Pianeti Uniti, di cui fa parte anche il pianeta Terra insieme ad altri pianeti e ad altri popoli. Una federazione che auspica la pace tra i popoli, auspica di aiutarsi vicendevolmente, molto molto ispirata all'ONU, giusto per essere Terra a Terra. Perché? Perché una delle cose principali che dovete conoscere, se già non la conoscete, del ciclo di Star Trek è il fatto che sia uno specchio della società attuale di allora e di adesso. Ed è questo che lo divide dal franchise di Star Wars. Star Wars ha la base, ha la favola, la fiaba, il mito dell'eroe che deve salvare il mondo, la galassia, eccetera. Quello è il fulcro di Star Wars. Mentre il fulcro di Star Trek cos'è? È la società umana. La società umana con i problemi legati alla società umana, la morale, le classi sociali, la diversità all'interno della società, le classi sociali, come viene trattato il diverso è soprattutto uno dei temi cardini. Perché? Perché stiamo parlando di un'astronave che esplora delle zone ancora inesplorate dello spazio, quindi per forza verrà in contatto con dei popoli, con dei pianeti mai conosciuti prima. Quindi questo approccio col diverso è molto molto preponderante all'interno di questa serie. Ma allo stesso tempo è molto preponderante anche una visione della società umana che viene replicata all'interno di questa astronave che è come una piccola città, come un piccolo mondo a sé stante dove abbiamo le classi sociali perché diciamo che gli ufficiali sono divisi, c'è l'ufficiale, c'è il capitano, poi sotto c'è il vice comandante, poi c'è chi si occupa della parte scientifica, chi si occupa della parte medica, chi si occupa della sicurezza, chi si occupa dell'ingegneria, dei motori, eccetera eccetera eccetera. Ognuno ha un ruolo all'interno di questa astronave, persino chi si occupa del bar, ok? Giusto per dire. Perché comunque anche il divertimento, la sala ologrammi perché esistono? Perché comunque gli esseri umani hanno bisogno anche di svago, di socializzare tra di loro, ok? Perché questa piccola società possa funzionare. Quindi l'enterprise non è altro che uno specchio di una piccola società, leggermente utopistica ma comunque con molti punti in comune con la società reale. Quindi Star Trek non è altro che una metafora della nostra società umana e di cosa voglia essere umano. Perché un altro tema molto caro a questa serie televisiva che è stato sviluppato soprattutto nello spin-off Star Trek The Next Generation è stato cosa significa essere umano. Ed è stato esplorato grazie al personaggio di Data che è un androide che per tutta questa serie desidera di diventare umano, desidera di diventare sempre più umano e di capire quali sono le caratteristiche che caratterizzano appunto gli esseri umani perché lui le vuole copiare, le vuole fare sue. Principalmente dal suo punto di vista sono le emozioni, quindi cercherà di creare un chip che possa replicare le emozioni umane ma allo stesso tempo quando lo inserirà in se stesso non sarà in grado di controllare queste emozioni perché nessuno gliel'ha insegnato. Lui non è stato un bambino, non ha avuto tutti gli insegnamenti che i bambini umani hanno dove gli si insegna cosa è giusto, cosa è sbagliato, a controllare proprio le emozioni e gli istinti primordiali. Quindi è veramente una serie che tocca i temi umani per eccellenza, veramente. Tutti i temi umani. Io sono una sua fan da anni e la consiglio a tutti. Certo è logico, non tutte le serie di Star Trek sono alla stessa altezza. Le mie preferite sono la serie classica, quindi quelle con William Shatner, Spock, poi sono una super fan di Star Trek The Next Generation. Mi piace molto anche Star Trek Voyager, non mi piace Star Trek Space Nine, Deep Space Nine, mi dispiace, ma il fatto che fosse la prima serie di Star Trek statica perché invece di essere ambientata su un'astronave è ambientata in una stazione spaziale che quindi sta ferma nello spazio non mi era piaciuto e anche era molto molto politica come come serie. E poi cos'altro mi è piaciuto? Mi è piaciuta la prima stagione di Star Trek Discovery, nonostante i grossi difetti. Comunque la prima stagione aveva il pregio di riprendere il tema dell'universo oscuro e di giocarci in modo intelligente. E invece ho odiato la seconda e la terza stagione di Star Trek Discovery e ho anche odiato la prima stagione di Star Trek Picard e non ho intenzione di guardare nemmeno la seconda stagione di Star Trek Picard perché potrei fare del male a qualcuno se la vedessi probabilmente. Ma veniamo a noi e veniamo ai libri. Allora, i libri di Star Trek come vi dicevo si dividono proprio a seconda delle serie a cui sono ispirati e strettamente collegati. Inoltre mi sono dimenticata di dirvi che esistono anche i film di Star Trek, alcuni collegati con la serie originale, quindi con i personaggi della serie originale, quindi Capitano Kirk, Spock, eccetera, e quelli invece collegati con Star Trek The Next Generation, quindi con Picard, Data, eccetera. Alcuni dei libri sono collegati anche con questi film, alcuni dei libri poi soprattutto spiegano, ci fanno vedere quello che non ci hanno fatto vedere i film e il telefilm, quindi approfondiscono dei momenti temporali non mostrati nella serie o dei personaggi che la serie magari ci ha fatto incontrare ma non ha mai approfondito. In questo video naturalmente non posso parlarvi di tutti i libri tratti dall'universo di Star Trek, sarebbero veramente veramente troppi, perché ci sono più di una serie di libri collegate ad ogni serie televisiva, quindi vi lascio immaginare il loro numero totale. Inoltre non tutti questi sono disponibili in italiano, solo pochi di loro e molti sono di difficile reperibilità perché questi romanzi hanno conosciuto il loro successo all'epoca in cui la serie televisiva era al suo apice, quindi anni 80, primi anni 90, sono di difficile reperibilità oggi. Li potete trovare soprattutto nelle biblioteche, io alcuni li ho trovati proprio nella biblioteca dove ho lavorato anni fa. In questo video vi parlerò e vi citerò dei romanzi che io conosco, dei romanzi disponibili in italiano e dei romanzi secondo me più interessanti, ma esistono romanzi dedicati a qualsiasi personaggio di Star Trek abbia fatto nascere la vostra curiosità. Per esempio, se come me amati Q come personaggio, ci sono dei libri dedicati esclusivamente a Q che vi fanno un po' vedere la sua vita, ci sono dei libri dedicati a Khan, veramente ci sono libri dedicati a ogni personaggio. Esistono serie di libri dedicati esclusivamente all'universo oscuro o universo specchio che compare in diverse serie televisive di Star Trek e è un concetto molto affascinante perché porta il concetto delle dimensioni parallele sullo schermo mostrandoci una realtà dove i personaggi che noi conosciamo nella serie televisiva sono capovolti, cioè chi è buono nella realtà del nostro Star Trek è cattivo nella realtà dello specchio oscuro, quindi vedere queste puntate in cui i nostri personaggi così amati e così buoni, così eroici sono cattivi ha un suo fascino perché comunque il male a volte aggiunge qualcosa in più a un personaggio. Per esempio, anche se io non ho amato tantissimo la serie Star Trek Enterprise che è un prequel della serie Star Trek originale, le puntate dedicate all'universo oscuro all'interno di quella serie erano molto molto belle, probabilmente le più belle dell'intera serie. quindi questa è una serie di libri che secondo me andrebbe esplorata meglio ma io non ho ancora avuto il tempo di farlo, lo ammetto perché veramente se comincio a dedicarmi a leggere tutti questi libri di Star Trek non avrei più tempo per leggere nient'altro perché sono veramente 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 tanti. È un universo letterario in continua espansione tra l'altro perché appunto adesso stanno uscendo i libri dedicati alla serie di Piccara, l'ultima serie che io odio con la televisiva perché secondo me prende i nostri personaggi amati e li butta al macero proprio ma bando alle ciance e veniamo proprio a citarvi qualche libro allora, un libro inedito in italiano che fa parte della serie di libri di Star Trek è The Exile of Khan Nunien Singh cioè è un libro collegato al personaggio di Khan che noi abbiamo conosciuto nel film a lui dedicato l'ira di Khan ma a sua volta era comparso anche nel telefilm originale perché è in una puntata del telefilm originale con Kirk e Spock che la prima volta veniamo in quella puntata di quel telefilm che Kirk abbandona Khan su quel pianeta in questo libro The Exile of Khan Nunien Singh noi finalmente vediamo ciò che i film e i telefilm non ci hanno mostrato riguardo a Khan cioè in particolare ci racconta cosa successe a Khan e al suo equipaggio dopo che Kirk nell'episodio spazio profondo della serie televisiva originale li abbandonò su CT Alpha e prima che venissero riscoperti nel film l'ira di Khan inoltre dal titolo, perché in realtà il titolo intero del libro è The Eugenic Wars 3 The Exile of Khan Nunien Singh quindi in realtà esiste una serie di libri di Star Trek che approfondisce le guerre eugeniche in cui Khan e i suoi erano stati creati quindi se volete anche approfondire ciò che era successo sulla Terra prima dell'inizio della serie Star Trek addirittura ci sono dei libri che fanno solo questo veramente ci sono tantissimi libri che compongono l'universo di Star Trek in cui potete approfondire qualsiasi argomento sia mai stato toccato nella serie televisiva e quando dico qualsiasi intendo qualsiasi un'altra serie dei libri di Star Trek che però è inedita in italiano e si intitola Star Trek IKS Gorkon dove invece di seguire le avventure di una nave della federazione seguiamo le imprese di un vascello Klingon e vediamo ogni cosa da una prospettiva del tutto nuova la serie si apre così questi sono i viaggi del vascello delle forze armate Klingon e KS Gorkon classe caccelliere la sua missione è esplorare nuovi strani mondi nuove forme di vita e nuove civiltà per poi conquistarle per la gloria dell'impero Klingon e questa serie è formata dai libri Good Day to Die Honor Bound e Enemy Territory è una trilogia esiste anche una trilogia dedicata al personaggio di Sulu l'ex navigatore dell'Enterprise del capitano Kirk che diventa capitano di una propria nave e ha una propria trilogia dei libri di Star Trek che raccontano le avventure della sua nave dove lui è il capitano e è anche questa formata da tre libri inediti in italiano che si intitolano Cacophony, Transformation e Envoy passiamo alla serie di libri dedicata a uno dei personaggi più famosi e più amati di Star Trek che è Spock comunque sappiate che i libri di Spock in italiano di disponibile non c'è tantissimo quello che ho trovato è questo allora uno si intitola il mondo di Spock ed è diciamo un episodio della vita di Spock Spock è ancora in carico sulla nave Enterprise ma il capitano Kirk lo riporta su Vulcano a causa di questa crisi questo libro lo vediamo interagire anche con suo padre Saric appunto per fare in modo che il pianeta superi questa crisi e in questi problemi che sono da un punto di vista predominatamente politici verranno rivelati i segreti più nascosti del pianeta Vulcano c'è le sue origini dalla sua selvaggia preistoria all'esplorazione dello spazio lo sviluppo della sua etica e della logica quindi alla fine Spock sarà diviso tra il suo ruolo su Vulcano per aiutare i suoi concittadini il suo ruolo sulla nave della flotta stellare e verso la federazione stessa mentre uno dei romanzi migliori della saga di Star Trek è sicuramente un altro libro che è disponibile in italiano e si intitola Sarek il padre di Spock e prende il via dagli eventi descritti nel film Star Trek 6 rotta verso l'ignoto dove appunto Spock deve tornare sul suo pianeta natale perché la madre sta morendo e qui incontra di nuovo il padre Sarek dopo anni di conflitti e incomprensioni ma di fronte a una grande cospirazione che mira a distruggere la federazione dei pianeti uniti i due dovranno mettere da parte i loro attriti altri due libri e chi sono tra quelli più amati dai fan di Star Trek che però sono ineliti in italiano sono quelli che fanno parte della serie Vulcan e si intitolano Vulcan's Forge e Vulcan's Heart praticamente Vulcan's Forge è ambientato dopo la morte presunta di Kirk che noi come pubblico abbiamo visto in un flashback nel film Generazioni e l'equipaggio dell'Enterprise deve trovare un modo per andare avanti e per Spock significa prendere la decisione più importante di tutta la sua carriera che lo porterà appunto a tornare su Vulcan's Heart e in Vulcan's Heart che è il seguito di Vulcan's Forge appunto abbiamo la descrizione di una battaglia dove l'Enterprise viene distrutta abbiamo il matrimonio di Spock con il comandante Savick personaggio già apparso nel film L'Ira di Khan e alla ricerca di Spock che infatti era una vulcaniana che aveva studiato proprio era la pupilla di Spock quella a cui lui aveva insegnato tutto e Spock è diventato un diplomatico per la Federazione Unita dei Pianeti allora c'è da dire che visto il suo bagaglio che si porta dietro la differenza di età il suo ruolo come diplomatico diciamo che la sua unione con Savick gli è stata un pochino imposta e a Spock vi rivelo questo e tra l'altro è interessante vedere come alla cerimonia dell'unione tra lui e Savick sono testimoni il padre di Spock che è un giovane luogotenente della Federazione che non è altro che Jean-Luc Picard anni dopo questa cerimonia Spock dovrà viaggiare come in incognito su Romulus per evitare una catastrofe e dietro di lui a seguirlo per aiutarlo ci saranno Savick e Picard invece altri libri disponibili in italiano dedicati a Spock sono Il segreto di Spock dove c'è Picard che riceve una missione speciale deve andare in incognito su Romulus per salvare in teoria l'ambasciatore Spock che è scomparso dopo una sua visita su Romulus mentre l'altro libro si intitola Il destino di Spock è appunto il seguito di Il segreto di Spock perché? perché comunque vediamo che qui viene spiegato sempre l'origine di Romulus che è stato fondato appunto da una manciata di vulcaniani che non hanno abbracciato la logica di vulcano e si sono allontanati quindi comunque i due popoli una volta erano uno solo quindi qual è l'obiettivo di Spock che vediamo anche in alcune puntate appunto di Star Trek Generation è appunto cercare di riunire questi due popoli che adesso sono nemici e in questo spero anche di riuscire a fare in modo che uno dei nemici più pericolosi della frutta stellare che è appunto l'impero romulano torni sui suoi passi e riconoscendo l'unione con Vulcano smetta anche di far guerra alla federazione ma questo suo intento capirete che non è per niente facile infatti anche se lui tenta questa strada dell'unificazione a opporsi all'unificazione ci sono veramente tante forze altra serie di libri di Star Trek abbastanza famosa e interessante è la serie Star Trek Titan che nasce come costola della serie televisiva Star Trek The Next Generation e vede come protagonista Riker che era il nome ufficiale della spaziale Enterprise sotto il capitano Picard ma qui ha una propria nave spaziale che si chiama Titan di cui lui è il capitano e a cui vengono date diverse missioni molto molto importanti durante tutto il corso di questa serie di libri ed è formata da ben sei libri Taking Wing The Red King Orion Sounds Fallen Gods Swords of Damocles Over a Torrent Sea e Synthesis e diciamo che cronologicamente parlando è ambientata dopo il film Star Trek Nemesis altra serie interessante però purtroppo sempre inedita in italiano è quella dedicata al dipartimento delle investigazioni temporali ad un certo punto nelle serie televisive Star Trek penso a cominciare già dalla serie originale vedremo che i nostri eroi verranno più volte coinvolti in incidenti temporali che li trasportano avanti e indietro nel tempo questo lo vediamo soprattutto anche in Voyager come serie televisiva dove per la prima volta vediamo che tornano indietro nel tempo per cercare di porre delle regole porre dei freni a questi viaggi temporali proprio degli individui della federazione che fanno parte di questa branca che appunto tenta di controllare i viaggi nel tempo dopo che saranno diventati nel futuro quasi canonici perché ci sarà della tecnologia che permette di farli quindi ci sono anche delle persone che controllano che nessuno cambi il flusso del tempo e cambi il futuro allora personalmente a me questa cosa degli agenti temporali mi è sempre parecchio confuso perché che queste persone riescano a controllare tutte le varie ramificazioni del tempo tutti gli snodi che si possono andare a creare quando viene cambiata anche solo una pagliuzza non l'ho mai trovata plausibile però se vi piace l'argomento dei viaggi nel tempo sicuramente questa serie fa per voi e capirete come il fatto dei viaggi nel tempo crei anche molti universi paralleli quindi ci sono anche dei libri delle serie di Star Trek che esplorano questi what if cioè se non fosse successo questo avremmo un universo dove i nostri personaggi fanno questo, questo e questo e praticamente come vi dicevo all'inizio del video uno dei tanti universi paralleli che esistono è l'universo specchio o l'universo oscuro dove appunto i nostri eroi buoni sono cattivi e dove i cattivi sono i buoni quindi è proprio una realtà inversa alla nostra esistono molti libri dedicati all'universo oscuro o all'universo specchio veramente veramente tante serie di libri perché è uno degli argomenti secondo me anche secondo me più affascinanti di Star Trek insieme a Q che è uno dei miei personaggi preferiti e veramente ne esistono tantissimi in italiano dedicato all'universo specchio io ho trovato il libro specchio oscuro che riprende l'avventura che era stata fatta dai protagonisti di Star Trek la serie originale quindi proprio dal Capitano Kirk quando il Capitano Kirk per un errore per una casualità si trasporta appunto nell'universo specchio e il suo alter ego dell'universo specchio capisce quello che è successo no? e quindi comincia a ordire un piano per viaggiare nel nostro universo e per fare in modo che i cattivi si sostituiscono ai buoni nel nostro universo e quindi quasi creare un nuovo impero nell'universo dove invece c'è la federazione e questo libro si intitola specchio oscuro e c'è in italiano un'altra serie interessante di libri di Star Trek inedita in italiano poi è The Lost Era che è la serie che esplora proprio i libri cioè che è la serie di libri che esplora proprio il periodo cronologico che va dalla fine della serie televisiva Star Trek originale fino all'inizio della serie televisiva Star Trek The Next Generation e di roba ne è successa tantissima quindi questa è una serie ad esempio di sette libri The Sundered Serpents Among the Ruins The Art of the Impossible Will of Souls The Night I Father Catalyst of Sorrow e The Buried Age sicuramente altre serie di libri di Star Trek che sono molto famose tra i fan e molto acclamate sono le serie scritti proprio dall'attore che interpretava il capitano Kirk quindi William Shatner e ha scritto molti libri all'interno dell'universo di Star Trek e di questi molti sono disponibili in italiano proprio perché intorno agli anni 80 lui era molto famoso i suoi libri erano molto famosi e per fortuna sono stati pubblicati anche nel nostro paese allora forse una delle serie più famose di William Shatner e disponibile anche in italiano è la serie Odyssey e la serie si dipanna cronologicamente così le ceneri del paradiso che è il primo libro è ambientato dopo il film rotta verso l'ignoto quindi abbiamo ancora Kirk che non è più il capitano dell'enterprise quindi sente che la sua vita è vuota sente che non ha uno scopo non vuole andare in pensione eccetera eccetera con la promessa che se farà quello che lei vuole perché si tratta di una donna lei gli darà come premio l'enterprise che ora è stata dismessa ed è diventata un vascello privato e lui potrà esserne il comandante quando Kirk all'inizio accetta però non ha idea della monumentalità dell'impresa che gli verrà chiesta perché perché lui non lo sa ma su un pianeta al confine tra l'impero romulano e quello clingon nascosto da tutti è stato portato avanti un esperimento una colonia unificata abitata sia da romulani che clingon fatta per affermare l'alleanza tra i due popoli che sono alleati in quanto entrambi i nemici della federazione in questa colonia quindi sono state create generazioni di persone nate dall'unione di clingon con romulani e una di queste è una bellissima donna che appunto ingaggia Kirk per aiutarla a mantenere un grande segreto che riguarda questa colonia ok il problema qual è il problema è che naturalmente la missione che questa donna darà a Kirk e invece i piani della federazione dei pianeti uniti non corrispondono quindi ad un certo punto per andare contro Kirk saranno chiamati dalla flotta proprio i suoi vecchi compagni dell'Enterprise perché si sussurra che lui stia agendo contro la federazione ok e questo è più o meno l'incipit come comincia le ceneri del paradiso che ho trovato in biblioteca anche io qui da me e l'ho letto non me lo ricordo tantissimo ma è un bel tumore e devo dire che è scritto molto molto bene e tradotto molto molto bene in italiano e se potete se lo trovate vi consiglio di leggerlo diciamo che in generale vi consiglio di leggere questi libri di Star Trek sì se siete fan di Star Trek se non conoscete Star Trek se non sapete niente del mondo di Star Trek non li potrete mai apprezzare a pieno perché comunque anche se ogni libro è a sé stante potreste comunque amare i personaggi vengono comunque spiegati i personaggi la loro storia viene spiegato il mondo non lo conoscerete mai approfonditamente se non avete visto le serie televisive e quindi non vi godrete mai a pieno questi libri quindi io li consiglio se siete fan di Star Trek il secondo libro della serie Odyssey il seguito di le ceneri del paradiso invece è ambientato subito dopo la fine del fin generazioni quindi in teoria Kirk che non era morto in passato ma è morto appunto per salvare l'enterprise di Picard ok in teoria dovrebbe giacere quindi sotto un cumulo di pietre su quella solitaria collina con cui si chiude il film generazione ma quando Spock va a visitare la sua tomba scopre che il corpo del suo amico non è lì perché non è lì perché i Borg e l'impero romulano hanno unito le forze in una terribile alleanza contro la federazione e la loro arma finale è proprio James T. Kirk che hanno risuscitato con una misteriosa scienza aliena e gli hanno anche fatto leggermente il lavaggio del cervello perché se devono usarlo come arma capirete ed è la loro arma contro il nemico più formidabile dei Borg cioè proprio come Picard quindi comincerà una lunga battaglia che vedrà schierati Riker Spock Data McCoy tutti i migliori ufficiali della federazione si trovano coinvolti in questa saga dove Kirk sembra diventato il cattivo nel terzo libro di questa serie che si intitola Il Vendicatore troviamo di nuovo la federazione in difficoltà ma stavolta a causa di un virus questo virus sta aggredendo sia piante e animali di tutti i pianeti della federazione quindi sta per accadere veramente una grave carestia per tutti questi pianeti una nave scientifica la Tobias sta cercando di capire l'origine di questo virus e trovare una cura e mentre si trova sul pianeta dei figli del paradiso anch'esso devastato dal virageno incontra un personaggio misterioso che assomiglia in modo straordinario Kirk che però in teoria nel libro prima sembrava morto sul pianeta natale dei Borg e invece mi ricompare qui ok questa trilogia formata dai libri Le Ceneri del Paradiso Il Ritorno e Il Vendicatore è molto molto bella molto molto amata dai fan e almeno i primi due libri Le Ceneri del Paradiso e Il Ritorno ve li consiglio veramente veramente caldamente non vi svelo molte cose però sappiate per esempio che ad un certo punto si faccio qualche spoiler il personaggio di Kirk sposerà una non mi ricordo se è una romulana una mezza romulana quindi insomma succederanno tante tante cose in questa seconda o addirittura terza vita del Capitano Kirk ok poi William Shatner appunto l'attore che interpretava il Capitano Kirk ha anche scritto una trilogia appunto ambientata nel famoso Universo Oscuro o Universo Specchio che come vi dicevo è stato molto esplorato dai libri della serie di Star Trek e la trilogia di Shatner si intitola The Mirror Universe proprio cioè Universo Specchio ed è disponibile in italiano ed è composta dai libri Il Fantasma Vittoria Oscura e I Protettori nel libro Il Fantasma abbiamo la Enterprise di Jean-Luc Picard che incontra mentre è di pattuglia in un certo punto dello spazio la Voyager che in realtà in quel momento secondo quello che succede nelle serie televisive dovrebbe essere dispersa nel quadrante Delta e dicono cazzarola sono già tornati no in realtà la Voyager che loro incontrano non viene dal quadrante Delta non è la loro Voyager che è tornata ma è la Voyager dell'Universo Specchio che è riuscita ad arrivare nel nostro universo e siccome questa è una serie scritta da William Sagner naturalmente il protagonista non è solo Picard ma anche Kirk perché quando l'Enterprise di Picard viene assaltata e fatta prigioniera dalla Voyager dell'Universo Oscuro verrà chiamato il Capitano Kirk per trarla in salvo nel secondo libro della serie Vittoria Oscura Kirk che è riuscito a sopravvivere al primo libro quindi al viaggio nell'Universo Specchio eccetera e è felice in questo momento della sua seconda o terza vita perché sua moglie è incinta no? ma proprio in questo momento suo di gioia gli viene assegnata una missione molto molto pericolosa tornare nell'Universo Specchio e capire cosa vuole fare il suo alter ego cattivo l'Imperatore Tiberius e quali sono i suoi piani contro il loro universo voglio fare troppi spoiler però ad un certo punto in questa serie vediamo che con questo continuo andare e venire di personaggi dal nostro universo all'universo oscuro scoprirete che molte storie si sono intrecciate tra i personaggi del nostro universo e i personaggi dell'universo oscuro in particolare tra l'altro la moglie di Kirk quando io parlo della moglie di Kirk è la moglie di Kirk nell'universo Specchio di cui però si è cioè la moglie di Tiberius ok? che è l'alter ego ma in realtà Tiberius non è una molto amorevole nell'universo Specchio e di lei si è innamorato Kirk invece quindi quando parlo di sua moglie diciamo che è un po' la moglie di entrambi ecco diciamo così ok? giusto per chiarire questo punto parlo del terzo libro che invece si intitola I protettori ok? che conclude questa trilogia ambientata nell'universo Specchio Kirk ad un certo punto si allera con il suo arterego Tiberius proprio per salvare sua moglie che sta morendo un'altra serie scritta da William Shatner è la serie Totality ok? che è formata dai libri I rischi del comando Sangue di capitano Conflitto galattico ok? quindi è una trilogia ed è disponibile in italiano anche questa come vedrete da queste trame questa serie di libri quindi la serie Totality non è una serie continuativa i cui libri sono uno in seguito dell'altro no sono dei libri uniti diciamo in questa serie da Shatner ma in realtà ambientati temporalmente in momenti diversi della vita del Kirk canonico della serie televisiva ok? e sono scollegati l'uno dall'altro sono collegati da cosa? dal fatto che fanno sempre parte della vita di Kirk ok? però del Kirk canonico della serie televisiva originale e dei film che ne hanno fatto seguito ok? quindi come vedete per esempio mentre il secondo libro Sangue di capitano era ambientato dopo che Kirk non è più il capitano dell'Enterprise il terzo libro ad esempio racconta un'avventura di Kirk ancora capitano dell'Enterprise ok? sempre William Shatner ha scritto anche una serie di libri che si intitola Star Trek Academy ambientata appunto nell'Accademia dove vengono formati gli ufficiali della flotta però quella è inedita in italiano ve la risparmio però sappiate che esiste ora chiudendo qui i libri scritti da William Shatner che però comunque sappiate che ha scritto anche una serie fantascientifica interamente ambientata al di fuori dell'universo di Star Trek che quindi io non citerò qui passiamo a un'altra serie invece canonica dei libri di Star Trek che si intitola Star Trek Invasion ed è opera della scrittrice Diane Carey una delle poche serie i cui quattro libri sono stati tutti pubblicati in italiano di cosa parla questa serie è un nemico che secoli 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 prima del momento temporale in cui avviene la serie televisiva Star Trek originale e poi Star Trek The Next Generation era in possesso di quasi tutto l'universo conosciuto compresi i quadranti dove appunto adesso c'è la federazione ci sono l'impero Klingon e ci sono l'impero Romulano però ormai quel vecchio nemico non è diventato altro che un mito o una leggenda dei mondi che erano stati schiavizzati quindi sono storie a cui nessuno crede più finché un giorno un vascello Klingon non rincontra di nuovo questo nemico questi alieni che sono riemersi dal passato per rinconquistare lo spazio di quei quadranti e si chiamano le furie quindi col pericolo di venire invasi da questo nemico comune i Klingon dovranno allearsi con la federazione in questo caso col capitano Kirk per fronteggiare questo nemico perché l'invasione ha avuto inizio e questo è più o meno quello che succede nel primo libro di questa quadrilogia che si intitola Primo Attacco nel secondo libro che si intitola invece L'esercito della paura questa volta protagonisti sono Jean-Luc Picard e la sua nave contro sempre il nemico chiamato le furie nel terzo libro che si intitola La furia del nemico capitano Sisko della serie televisiva di Space Nine che si intitola a conoscere molti segreti di questo nemico grazie a un simbionte in stasi che era stato testimone di quegli incredibili eventi avvenuti millenni prima e scoprire questi segreti del nemico sarà molto importante per la federazione che si è unita con altri popoli per sconfiggere appunto le furie nel quarto libro che si intitola invece La sfida finale la guerra si sposta nel quadrante da cui vengono le furie perché così la federazione eccetera pensano che solo portando la guerra da loro saranno in grado di sconfiggere una volta per tutte questi alieni ed è lì che questa missione quindi nel quadrante alfa dove prima appunto era stato nel quadrante d'erta ora è il quadrante alfa beh insomma comunque e lì si trova già la Voyager dispersano quindi la federazione dà l'incarico appunto alla Voyager di scoprire altri segreti di questi alieni e di sconfiggerli a casa loro proprio sul loro pianeta di origine questo non è stato altro che un piccolo escursus di alcuni ma veramente vi ho parlato di di pochissimi libri delle serie di Star Trek in realtà come vi dicevo l'universo di questi libri è enorme e in continua espansione perché c'è un libro per quasi ogni personaggio anche secondario o terziario di queste serie però esistono anche dei libri invece dedicati a Star Trek dedicati alla serie televisiva a Star Trek un libro dedicato ai fan di Star Trek che si intitola Volevo guidare l'Enterprise ma Kirk è arrivato prima di Adele Ross e Matsuteia questo libro che è in vendita anche su Amazon ok non è altro che un ebook con anedoti curiosità e rivelazioni di piccoli segreti sulla saga di Star Trek vi siete mai chiesti per quale motivo la serie originale di Star Trek al contrario di ogni serie tv vanta non uno ma ben due episodi pilota oppure da dove è nata l'idea del teletrasporto o ancora cosa sono in gergo filmico le maglie rosse e avete mai avuto la curiosità di conoscere le trame dei dieci episodi di Star Trek che non sono mai stati realizzati questo libro vi racconta tanti anedoti tanti piccole cose collegati con le serie televisive di Star Trek che probabilmente non conoscete e se siete suoi fan magari vi potrebbero interessare un altro libro che vi potrebbe interessare è Star Trek la pista delle stelle cos'è questo libro? allora questo libro è praticamente un unico volume molto molto corposo ok che raccoglie le novelization di tutti gli episodi della serie classica di Star Trek ordinati cronologicamente nelle tre stagioni come da indicazione Paramount e da data di prima trasmissione negli Stati Uniti quindi ci sono 29 episodi barra racconti per la prima stagione 26 per la seconda e 24 per la terza non so a quanti potrà interessare questo libro che non è altro appunto che è un riversamento su carta in forma scritta degli episodi di tutte le tre stagioni della serie originale ma secondo me se siete fan della serie di Star Trek potrebbe comunque interessarvi qua chiudo questo lunghissimo video sperando che vi possa essere interessato non lo so però visto che diverse volte parlo di fantascienza all'interno di questo canale mi sembrava giusto anche dedicare un video e diversi post anche ai libri fantascientifici dedicati all'universo di Star Trek perché non sono libri di fantascienza di seconda classe ok non sono di serie B sono dei veri propri libri di fantascienza solo ambientati in un universo che è nato per una serie televisiva non è nato per la letteratura ma in questo penso che non ci sia niente di male come sempre se questo video vi è piaciuto vi invito a cliccare mi piace qui sotto e iscrivervi al mio canale per non perdere i miei prossimi video buona lettura a tutti